io ho detto niente perché se fai un gruppo è un gruppo c'è anche il drone c'è il drone fai il verso sembra il drone no se poi non inciampi e non ti ammazzi vedi vedi il drone è caduto il drone è caduto sei sicuro questo è l'antipasto no è dei celiaci questo non può ma questo è solo l'antipasto no mi conosce a me perché c'è il timbro del ciriaco è il drone il drone il drone perché anche a piedi cazzo neanche in moto è il drone